C'è una ricompensa per chi sia in grado di localizzare l'ex presidente peruviano Alejandro Toledo che le autorità del Peru accusano di aver accettato tangenti per milioni di dollari. Nei giorni scorsi era stato rintracciato negli Stati Uniti, ma le autorità di Washington si erano rifiutate di estradarlo e gli avrebbero consentito di imbarcarsi su un volo per Israele.